I malavoglia, terzo capitolo, versione facilitata. Era arrivata la sera triste e fredda, una di quelle sere in cui se la barca è sicuro sulla spiaggia ha un piacere guardare la pentola che fuma sul fuoco con i bambini tra le gambe e ascoltare i passi delle donne per la casa. I fanulloni invece passavano quella domenica all'osteria, una domenica che sembrava annunciare il freddo dell'autunno, tanto che anche lo zio Santoro con le mani tese e il mento sulle ginocchia si era avvicinato al cammino acceso per scaldarsi un po'. Lui sta meglio di compare Bastianazzo a quest'ora, ripeteva Rocco Spato, l'ubriacone, accendendo la pipa e senza pensarci prendendo sulla tasca due centesimi per fare l'elemosina a zio Santoro. Con l'elemosina tu ringrazi Dio che sei al sicuro, gli disse Pier di Papera. Per te non c'è pericolo di morire, come per compare Bastianazzo. E tutti ridevano. Padre Antoni è andato tutto il giorno di qua di là sotto la pioggia, dicevano, e il figlio della locca che era fuori dall'osteria con le mani in tasca perché non aveva soldi e giungeva. Lo zio crocefisso è andato con Pier di Papera a cercare padron Tony per fargli dire davanti a un testimone che i lupini gliel'aveva dati a credito. Anche lui li vede in pericolo con la providenza. Si sentiva a dire. Con la providenza c'è andato anche mio fratello Menico. Così non torna, resti il padrone della casa. Così se non torna, resti il padrone della casa. È andato sulla providenza solo perché zio crocefisso gli paga mezza giornata quando va a pesca, mentre in malavoglia gliela pagano intera. Intanto il tramonto Maruzza, la longa, con i figli, era andata ad aspettare il marito sugli scogli del porto, da dove si vedeva un bel pezzo di mare. Le onde muggivano e sbattevano sui faraglioni, ma lei non diceva niente. La piccola Lia piangeva e quei poveretti fermi sulla riva a quell'ora sembravano le anime del purgatorio. Non sapeva cosa fare per calmare la bambina e cantava delle canzoncine con voce tremante, che sembrava piangesse anche lei. Le comari che passavano con il vaso dell'olio e la bottiglia del vino si fermavano a dire qualche parola con la longa. Passava anche a qualche amico del marito bastianazzo. Domandavano informazioni o si fermavano un po' per farle compagnia in silenzio. La longa, sorpresa da tante attenzioni, guardava con tutti gli occhi pieni di lacrime e stingeva al petto la bambina, come se volessero rubargliela. Finalmente il più duro o il più compassionevole, prendendo per un braccio la donna, aveva avuto il coraggio di portarla a casa e la essi lasciava portare ripetendo. Oh Vergine Maria, oh Vergine Maria. I bambini la seguivano stretti sulla sua gonna e mentre passavano davanti all'osteria tutti si affacciavano per vederli. Lo zio Santoro, il cieco, diceva sottovoce una preghiera, aggiungendo. Quel povero bastianazzo mi faceva sempre l'elemosina quando prendo un troni gli lasciava qualche soldo in tasca e nel frattempo la longa, che non sapeva di essere vedova, ripeteva. Oh Vergine Maria, oh Vergine Maria. Davanti a casa sua c'era un gruppo di vicine che aspettava. Parlando a voce bassa, vedendola arrivare da lontano, comare Piedipapera e la cugina Anna le erano venute incontro con le mani sul petto senza dir niente. Allora lei si era messa le mani nei capelli e con un grido disperato era corsa dentro casa. Che disgrazia, ripetevano tutti, la barca era carica, più di 40 onze di lupini. Il peggio era che in malavoglia avevano preso i lupini a credito e lo zio crocefisso non si accontentava di buone parole e mele fradice, come lo chiamavano campana di legno, perché ci sentiva quando lo volevano, perché non ci sentivano quando lo volevano pagare con delle chiacchiere. Era una buona persona che viveva prestando denaro agli amici, non faceva altro mestiere e per questo stava in piazza tutto il giorno con le mani in tasca e una giacca tutta rovinata che sembrava povero. Invece aveva tantissimi soldi e se qualcuno andava a chiederne gli li dava subito, non gli li dava subito ma con il pegno, perché chi fa credenza senza pegno perde l'amico, la roba e l'ingegno. Dovevano ridargli la domenica successiva e con l'interesse, perché con l'interesse non c'è amicizia e qualche pescatore aveva bisogno di soldi, gli compravano anche tutti i pesci della giornata, ma con lo sconto e pesanti sulle sue bilance che erano false come quelle di Giuda. Insomma, era un grande aiuto per quelli che erano in difficoltà e adesso i suoi nemici ridevano di lui per quei lupini finiti sul fondo del mare e dovevano anche pagare per l'anima di Bastianazzo insieme ai confratelli della buona morte. I vetri della chiesetta brillavano al sole e il mare era liscio e luminoso, tanto che non sembrava lo stesso che aveva rubato marito la longa, perciò i confratelli avevano fretta di finire la cerimonia per la morte di Bastiano e approfittare il tempo buono per ognuno del proprio lavoro. I maravogli erano lì ginocchiati davanti alla bara e lavavano il pavimento con le lacrime, come se il morto fosse davvero in quella bara che Don Gio Maria e Preta bagnava con l'acqua santa, mentre compare Cirino e Sagrestano iniziava a spegnere le caldele. Zio crocifisso si era appena avvicinato a padron Antoni e gli aveva offerto un po' di tabacco, perché quando uno è generoso lascia buon nome e si guadagna il paradiso. E chi gli domandava com'alizia dei lupini rispondeva, maravoglia, sono galantuomini e non vorranno lasciare compare Bastianazzo all'inferno se non pagano il debito. La casa del nospolo era piena di gente e tutti dicevano, povera longa, ora cominciano i guai per la sua casa. Gli amici portavano qualche cosa come tradizione, pasta, uova, vino e ogni bene. Anche compare a Alfio Moschia il carettiere era venuto con due galline, una per ogni mano. Prendete queste qua, Mena, diceva, che avrei voluto essere io al posto di vostro padre, vi giuro, almeno non avrei fatto danno a nessuno e nessuno avrebbe pianto. Mena, sulla porta della cucina, con una faccia nascosta nel grembiule, sentiva battere forte il cuore e voleva scappare come quelle povere galline che aveva in mano. La sua dote era affondata insieme con la provvidenza e tutti pensavano che zio crocifisso si sarebbe preso la casa del nespolo, se in maravoglia non riuscivano a pagare il debito. Alcuni arrivavano e se ne andavano senza dire nulla. Chi sapeva parlare cercava di confortare un po' quei poveri malavoglia, che piangevano da due giorni come fontane. Compare Cipolla raccontava che il pesce costava di più, altri ricordavano che Bastianazzo era giovane, pieno di forza e nessuno pensava che potesse morire così. Don Silvestro, per far ridere un po', parlava della tassa della successione di Bastianazzo, trasformandola in una barzelletta. Almeno avete il piacere di essere parenti del re Vittorio Emanuele, visto che con questa tassa dovete dare la parte anche a lui. E tutti ridevano perché Proverbio dice né furerale senza riso né matrimonio senza pianto. Poi tornavano a parlare delle tasse e Donna Rosoliva dava la colpa a Garibaldi, mentre compare Turi Zupiddu gridava va a finire male con questi italiani. La longa, seduta sul letto, pallida come un panno lavato, sembrava la Madonna addolorata e padron Tony, piegato in due, più vecchio di cent'anni, la guardava senza sapere cosa dire. Ognuno raccontava le proprie storie, anche per confortare i malavoglia, che non erano soli ad avere problemi. Il mondo è pieno di guai, chi ne ha pochi, chi ne ha assai. Padron Cipolla sapeva perché non pioveva più come prima e lo raccontava a tutti. Non piove più perché hanno messo il filo dei telegrafo. Compare Mangiacarrube e Tino Pierdipapera ascoltavano a bocca aperta perché sulla strada di Acitrezza avevano messo davvero il filo del telegrafo, ma siccome Don Silvestro cominciava a ridere e fare ha 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 come una gallina perché non ci credeva, padron Cipolla insisteva. Il telegrafo porta le notizie da un posto all'altro perché dentro il filo c'è un succo che porta la via, la pioggia dalle nuvole. E se non ci credevano, potevano chiederlo al farmacista. Ecco perché hanno fatto la legge che chi rompe i fili del telegrafo va in prigione. Poi cambiavano argomento e guardavano l'orto. Un pezzo di terra lavorato bene e da da mangiare per tutto l'anno, osservava compare Mangiacarrube. In effetti la casa del Malavoglia era sempre stata una delle migliori attrezza. Ma ora, con la morte di Bastianazzo, Tony soldato, Mena che aveva bisogno della dote per sposarsi e tutti quei bambini, era in grande difficoltà. E come poteva valere la casa? Ognuno guardava le stanze, l'orto e il tetto, come per capire il valore. Volete scommettere che non è oro tutto quello che luccica, diceva Don Silvestro? Padre Cipolla, che aveva scambiato qualche parola con padron Tony per far sposare Mena con il figlio Brasi, faceva segno di no con la testa. Il vero disgraziato è lo zio crocifisso, che ha perso il credito dei lupini, diceva intanto qualcuno, e tutti giravano la testa verso Campana di Legno, che era venuto per rispetto del morto e stava zitto in un angolo. Dopo che tutti erano andati via, i malavogli erano rimasti soli nel cartino, cortile. Ora, disse padron Tony, siamo rovinati ed è meglio per Bastianazio, che non ne sa niente. Ci sono degli esercizi qui nella comprensione del testo e dovete abbinare ad ogni fase a un personaggio corretto, questo. Sono esercizi essenzialmente di pratica per la comprensione del vocabolario. Qui ci sono anche degli esercizi da rispondere alle domande di lessico. Se avete tempo, per favore, scrivete anche questo. Scriviamo una mail a un amico in cui racconti lasciagura capitata alla famiglia. E qui pensiamo un attimino cosa può essere nel prossimo capito. Ci sono delle storie d'amore, eventualmente, non lo so, alcune anticipazioni per il prossimo capitolo.